Si sono tenuti a Modugno, in provincia di Bari, i funerali di tre delle vittime dell'esplosione avvenuta nella fabbrica di fuochi d'artificio Bruscella il 24 luglio scorso. L'ultimo saluto a Vincenzo e Michele Bruscella, zio e nipote, titolare della ditta, e a Vincenzo Arme Nise, è stato dato in forma privata da parenti e amici, mentre per le altre vittime bisognerà attendere l'identificazione. Per la giornata il comune di Modugno ha dichiarato il lutto cittadino.